Continua la rassegna musica in a quota che è approdata alla Montezuoli sopra Omenia in uno scenario fantastico come sono fantastici tutti gli scenari dove si svolgono i vari appuntamenti un'iniziativa che ormai è rodata e che è capace di attirare sempre tanta tanta gente Sì è un'iniziativa che funziona, annualmente porta davvero dei numeri notevoli ad ogni appuntamento questo è un appuntamento particolare di musica in quota, diciamo che qui la quota è leggermente inferiore però diciamo che di superiore c'è un ricordo importante oggi, quello che anche la nostra associazione ricorda Gianni Rodari e lo ricorda come uno spettacolo particolare, quindi un concerto dedicato anche ai più giovani con la giocoveria, con le bolle di sapone, con questa musica coinvolgente musica in quota continua, prosegue andando in spazi diversi il 5 di agosto e l'8 di agosto saremo in Valle Formazza rispettivamente al Rifugio Somma e poi al Passo San Giacomo per poi il 14 tornare nel Cusio a Campello Monti con l'appuntamento tradizionale del Ferragosto la rassegna cresce, cresce di anno in anno, cresce grazie agli sponsor, cresce grazie ai numerosi che si iscrivono alla nostra associazione e che partecipano a questo evento credendo che sia bello coniugare cultura e passione per la montagna grazie a tutti